Ingredienti per 4 persone Insalata di mare con frutta 4 manciate di soncino 4 manciate di insalata rossa 2 fette di ananas 4 spicchi di avocado Tra 6 e 8 fragole 4 spicchi di pompelmo 20 gamberi sgusciati e lessati 4 pezzetti di surimi 4 cucchiai di mais Una tortiglia Preparazione insalata di mare con frutta Ricetta di cucina cili con carne Mettete la tortiglia in un colapasta e friggetela in modo da ricavare un cestino. Pulite e tagliate tutti gli ingredienti e poneteli nella tortiglia o in una insalatiera, disponendoli con cura, in fondo, fate un letto d'insalata. Condite a piacere. Condite a piacere. Condite a piacere.